Affari tuoi. Amadeus scioccato dal fatto gravissimo. Gelo in studio. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nell'ultima puntata di Affari tuoi, il popolare game show di Rai 1, si è assistito a un episodio memorabile che ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori. La protagonista di questa puntata è stata Silvia, una giovane 25enne di Legnano, che ha partecipato insieme a suo padre, regalando momenti di grande emozione. Sin dall'inizio, Silvia ha mostrato un carattere vivace e divertente, nonostante un velo di nervosismo evidente, tanto da diventare oggetto di scherzi da parte del conduttore Amadeus. La sua avventura nel gioco è iniziata in modo equilibrato, ma con il passare del tempo, Silvia ha affrontato momenti di tensione, rischiando di perdere premi importanti. Nonostante le difficoltà, la giovane ha dimostrato grande tenacia, decidendo di cambiare il pacco iniziale. Questa scelta l'ha portata a ritrovarsi con solo quattro pacchi, tra cui somme di 5 euro, 200 euro, 5.000 euro e 75.000 euro. Di fronte all'offerta di 25.000 euro del dottore, Silvia ha seguito il suo istinto, accettando la proposta e scoprendo poi che il loro pacco conteneva solo 200 euro. Una scelta che, nonostante tutto, ha portato a casa una somma considerevole. Il momento più esilarante è avvenuto durante l'abbraccio finale con Amadeus. Quando Silvia ha accidentalmente fatto cadere il telefono del programma. Scatenando l'ilarità del pubblico e dei telespettatori sui social. Con commenti divertiti sulla distruzione dell'iPhone rosso del dottore. La simpatia e l'abilità di Silvia nel gioco l'hanno resa una concorrente molto apprezzata. Lasciando il segno in una puntata di, Affari tuoi, ricca di emozioni e colpi di scena. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.